Grazie Presidente. Allora, come già detto dal Consigliere Diaco, Presidente della Commissione Ambiente, la maggioranza non si vuole assolutamente sottrarre la discussione riguardo i canigli e i gattivi. Colleghi, evitiamo i commenti. Abbiamo dato e stiamo dando fin da subito la disponibilità nella capigruppo già convocata da lei per le 18. Infatti le chiedo anche di avvertire gli altri capigruppo di non abbandonare l'aula perché fra esattamente sei minuti ci vedremo in sala delle bandiere e troveranno la disponibilità da parte della maggioranza già a ricalendarizzare questo Consiglio straordinario per poterne discutere con i tempi necessari, quindi le due o tre ore che decideremo tutti insieme, già per martedì 11. Grazie.